Fermi, bravissimi, dacci subito dei dettagli tecnici, quanto ci abbiamo messo? Allora, di camminato ci abbiamo messo 3 ore, ovviamente da quando siamo presi stamattina alle 8 e mezza adesso ne è passato di più perché tutte le tappe inogastronomiche che ci ha proposto la Col di Retti ovviamente ci hanno fatto perdere del tempo ma ci hanno fortemente ristorato quindi arriviamo ad Acqui, come dire, soddisfatti di aver compiuto la prima giornata di Mornizza il nostro dovere l'abbiamo fatto, adesso abbiamo bisogno però, come dire, di riposarci mettendo le gambe sotto il tavolo a pranzo e poi goderci il pomeriggio a quese con tutte le sue attrattive Ascolta Maurizio, ma noi che siamo golosi, il menù lo sai? Il menù è specializzato al Sor Paola, comunque, come dire, il menù del pellegrino Sor Paola, Sor Paola, venga, venga Ovviamente, come dice già la parola, deve essere un po' austero, prevederà comunque primo, secondo contorno ovviamente un dolce seppur frugale perché possiamo, di zuccheri ne abbiamo bisogno, dobbiamo recuperarli da qui Ma l'abbiamo già tutti E ne abbiamo già assunti? Ne abbiamo già assunti abbastanza Quindi vedo che siete ancora sorridenti, per cui, per cui, vivi La mascotte del gruppo, dov'è finita? La mascotte del gruppo, là Dov'è? Fatti vedere Isabel, Isabel Vieni vicino a Maurizio, vieni vicino a Maurizio Vai vicino a Maurizio Di qualcosa con Maurizio, vieni, vai vicino a Maurizio Allora, Isabel, ti è piaciuta questa camminata? Sì, molto Perfetto, ritieni che sia un'esperienza da ripetere Allora, visto che tu sei la più già, ne sappi che sarai quella che dovrai farne più di tutti Bravissima, bravissima Ok, bravi a tutti, quindi ci vediamo a pranzo? Allora, il voto di gruppo la facciamo sotto l'edicola, la facciamo qui, lì ci va a poter vedere come stiamo messi a sole Noi la volevamo fare sotto l'edicola Sotto lì sono dei tesori, mi sembra un po' impeditivo No, però sotto l'edicola vi nascondete uno con l'altro perché è stretto Il resto va tutto bene E c'è anche il gradone L'avevamo già fatta l'anno scorso Sì, tanto, tanto, sì Ciao, Sor Paola, ci vediamo a pranzo Ciao